La Fondazione del Banco di Napoli va all'attacco del Governo, avviando un'iniziativa giudiziaria nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il ricorso è stato notificato lo scorso 9 settembre dall'Avvocato Antonio De Notari Stefani di Vasto Girardi. Nella conferenza stampa svoltasi a Napoli, nella sede di Via dei Tribunali, Rossella Paliotto, presidente della Fondazione, che rappresenta le sei regioni del Meridione, ha spiegato i motivi dell'iniziativa. La Fondazione chiede il rendiconto allo Stato, così come lo Stato ha preso impegno con la legge 588 del 1996 e l'articolo 2 del decreto legge 497 del 1996. Bisogna rendere espliciti i parametri e bisogna, in trasparenza, in lealtà e nell'osservanza che i cittadini nutrono in termini di fiducia verso lo Stato, fare il conto, quello che sono i numeri col più e quelli che sono i numeri col meno. Se c'è un avanzo, va restituito a chi ne è il legittimo proprietario, gli ex azionisti del Banco di Napoli. Sarà il Tribunale di Napoli a dirimere una vicenda sulla quale il CDA della Fondazione ha deciso dunque di concentrarsi per chiudere una partita cominciata nel 1996 e che portò alla scomparsa di molte piccole e medie imprese. La stima d'oggi dell'intero indennizzo per tutti gli ex azionisti potrebbe girarsi intorno al miliardo di euro, aggiunto la Presidente Paliotto. Trattasi di una liquidazione dovuta, dunque anche secondo il Vice Presidente della Fondazione di Baldassarre, che potrebbe essere destinata ad incrementare la promozione dello sviluppo economico e culturale, in regioni come il Molise e l'Abruzzo, che fanno da ponte con il resto del mezzogiorno. Noi interveniamo nelle sei regioni meridionali, eccetto le isole. Tra queste regioni ovviamente c'è l'Abruzzo, c'è il Molise e con l'Abruzzo c'è stato un link straordinario, che è quello della fusione per incorporazione e dell'ex fondazione Carichieti, che per noi ha assunto logisticamente e geograficamente una posizione importante, perché dall'Abruzzo noi ci rivolgiamo sicuramente agli abruzzesi, ci rivolgiamo sicuramente ai molisani. Infatti si sono creati dei link anche in questi giorni, dove abbiamo una mostra che dal Molise è transitata in Abruzzo all'interno della Fondazione Banco di Napoli, quindi un link importantissimo che unisce anche vicende storiche similari, quella della Fondazione Banco di Napoli, quella dell'ex fondazione Carichieti, con quella che era la cassa di risparmio presente nella città di Atina.